Si chiama la magia del Natale, il cartellone di Natale con tutti gli eventi che l'assessorato alla cultura e al turismo, assieme all'assessorato alle attività produttive, propone per l'Aquila e a Fonte Cerreto. Oltre 150 eventi dal 1 dicembre al 7 gennaio. L'offerta varia ed è notevole. Dai presepi tradizionali alle cantate e i cori di Natale ci saranno rassegne teatrali e cinematografiche, mercatini, concerti, eventi sportivi, spettacoli di danza, mostre fotografiche, eventi per bambini, spettacoli e laboratori teatrali. Eventi che si articoleranno in un mese tra l'Aquila e Fonte Cerreto. L'albero di Natale in Piazza Duomo, già acceso e decorato, sarà il fulcro di un villaggio di Natale con i mercatini di Natale e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Oltre all'evento già organizzato da Mamme per l'Aquila, la magica casa di Babbo Natale in pieno centro storico, per i più piccoli, come sempre, è previsto l'arrivo della Befana in Piazza Duomo il 6 gennaio con i Vigili del Fuoco. Gli amanti dei canti natalizi avranno l'esibizione della storica band dei neri per caso e i giovani festeggeranno invece il nuovo anno al Parco del Castello con il concerto dei Regina, la cover band dei Queen e un DJ set. Ci saranno anche il concerto del 1 gennaio all'auditorium del Parco e la tradizionale Fiera dell'Epifania, appuntamento tanto caro per gli Aquilani il 5 gennaio, con l'obiettivo di far rivivere il centro storico a tutti i cittadini. Ci saranno anche eventi a Fonte Cerreto, alla base della funivia del Gran Sasso, proprio per puntare e rilanciare la montagna. La brochure con tutti gli eventi è in distribuzione, 5.000 copie in giro, presso le sedi del Comune dell'Aquila e nei principali luoghi di aggregazione della città, oltre che sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale del Comune.